Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi dove vi porto ragazzi? Oggi andiamo a fare un bel giro con Freccia Verde Siamo partiti intorno alle 9, adesso sono le 9.05 quasi Mi sono dovuto fermare perché mi si era scollegato il microfono dalla GoPro Tutto risolto, adesso direzione bar TNR, se non sbaglio quello sulla Tiburtina E poi si parte per Tagliacozzo ragazzi, quindi ci vediamo appena arriviamo, a tra poco Ci siamo ragazzi, qua davanti abbiamo Freccia Verde e adesso si parte Partiamo verso Tagliacozzo Eccoci ragazzi, abbiamo appena fatto rifornimento e ora stiamo andando avanti Ci abbiamo davanti Freccia, davanti a tutti e Giacomo in fondo a fare il Serrafina Che giornata ragazzi, che giornata, c'è stan sole da paura E oggi sarà una bella uscita Se divertiremo una cifra regà Ora stiamo passando per Tivoli Ma siamo quanti siamo? In 10 siamo Gruppetto da 10 Cari guarda la monnezza là che c'è sta mamma mia c'è sta mamma mia questa strada è fighissima ecco ve li stiamo prendendo il gruppone l'auto ci ha fatto un po' da tappo purtroppo con tutte queste curve non è sempre facile sorpassare pulito io comunque la strada non la conosco quindi non vado troppo spedito soprattutto sulle curve perché non so proprio come chiudono facciamo una guida intelligente ma divertente bene Grazie. 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 E si vede anche la neve ragazzi eccola ce l'abbiamo ce l'abbiamo la neve ce l'abbiamo. Segnaliamo sempre tutto anche a quelli dietro. Che giornata ragazzi mamma mia che giornata bella bella bella. Oggi Freccia per noi ha organizzato un giro sensazionale. Incredibile amici. Ci fermiamo anche a pranzo. Non ho capito ancora bene se a tagliacozzo proprio o vicino non ho capito a sta cosa. E' nato lunghissimo ecco perché quando non conosco la strada io preferisco andare in curva leggermente più tranquillo. Perché purtroppo regà cioè se te chiude la curva che non lo sai è un attimo a lunghi eh. E' stato grazie. E' stato graziato che comunque c'hai una buona visuale anche in curva pure qua. Diciamo che la strada è bella larga riesci a vedere. Se veniva su qualcuno eh. Che era un po' scivoloso. Ho sentito per terra. Sembrava una saponetta. Tanto regà. Se arrivi primo ultimo non te paga nessuno quindi divertimose e basta. Quanti gradi fanno? Due gradi. Due gradi. Ti tiro. Ritiro. Fortuna hai messo abbardato bene. Due magliette termiche. Maglietta. Felpa. Giacca. Invernale. E sotto c'ho pure la cazza maia. C'ho tutto regà. Posso andare in Alaska. Vado a vivere in Alaska. Faccio la trasmissione quella del D-Max. Restiamo un po' più larghi qua che è un po' più soleggiato. E' un po' più asciutto. poco ma un po' di più rispetto all'interno. Che strada comunque. Complimenti veramente a Niccolò perché è proprio un bel giro raga. Proprio proprio bello. Infatti prima gli stavo a dire che peccato per il pezzo prima che c'è stato un po' di traffico. Infatti mi ha detto che dal bar in poi sarebbe stata meglio la situazione visto che uscivamo un po' fuori dai paesini. ed effettivamente mi devo dare ragione perché è proprio uno spettacolo. Quante volte ho detto che spettacolo? Lo dico un'altra volta. Che spettacolo. Oh mamma mia. Staccate, staccate. Mi mancava un'uscita di queste così. Non dico lunghe ma manco quelle da 100 km. Cioè qui alla fine comunque partendo da casa mia saranno 300 km. Forse qualcosina in più. Quindi è un bel giretto insomma. Mi mancava. Mi mancava raga. Mi mancava. Tra l'altro con questo ragazzo che c'ha la street mi pare. Con la street ci stavamo a divertire queste curvette eh. Ecco il gruppo se non erro. Si. Ah mamma mia che strada. Porco due. No. Eh si qualche punto. Qualche punto è un po'. Chi è che a te ti ho visto male eh. Si. E' una certa. No. Stava registrati qui con piano che te capi. E' stata ma la conosco. E' umido eh. Poi ho visto a te che sei nato proprio uuuuh. Ragazzi. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale. per attivare la campanellina. Lasciare un commento. Un like. Per supportarmi. Tanto. E' gratis. E' gratis. E' gratis. io e tutto il gruppo. E ci si saluta. E poi si torna a casa ragazzi. Poi si torna a casa. Dopo sta bellissima giornata. Ce ne torniamo a casa. Ce ne torniamo a casa. Ragazzi. Per questo video è tutto. Con la vista qui da Tivoli. Io vorrei ringraziare Niccolò. Freccia Verde. Per questa giornata stupenda. Giro fantastico. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi. E come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao.